Un altro emendamento che ho presentato, anche questo è stato bocciato purtroppo, ma che ripresenterò nell'aula in consiglio regionale durante il bilancio, riguarda il campo da calcio del Vismara Calcio. Ricordo che è una società che aveva un campo fatto appena due anni, che aveva fatto l'amministrazione comunale, un investimento superiore ai 600 mila euro, che con l'alluvione di maggio 2023 è stato completamente distrutto, cioè non è più utilizzabile. Per poter rimettere, come dire, renderlo utilizzabile un'altra volta va completamente rifatto e ci vogliono almeno altri 6 o 700 mila euro ed è per questo che ho chiesto alla regione di dare un contributo. Io ho chiesto 500 mila euro, ma poi dovrà essere deciso a livello di consiglio regionale, mi auguro 500 mila euro perché il Comune di Pesaro si ritroverebbe dopo due anni a dover rispendere la stessa cifra che aveva speso appena due anni fa e secondo me è un aiuto a livello del consiglio regionale sicuramente importante, anche perché ricordo che questa società ha oltre 200 ragazzi iscritti, è importante per comunque un quartiere che possiamo definire in parte periferico, dove i giovani hanno bisogno di fare sport, ha bisogno di avere un punto di riferimento. Questa società lo è per tanti giovani, per centinaia di giovani ed è importante che venga ripristinato entro il prossimo inizio del prossimo campionato che sarà sicuramente a settembre-ottobre del 2024. Attualmente la società è costretta a pagare affitti in altri campi con disagi sia da parte delle famiglie, dei ragazzi e quindi un aumento di spese. Quindi io penso che la regione, visto che ha previsto decine di interventi su impianti sportivi a livello regionale, aggiungere questo impianto è fondamentale anche perché è un impianto che c'era, era appena stato riqualificato ma a causa di questa alluvione occorre rifarlo.